Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Kingdom Hearts 3 per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi bentornati su questo titolo Nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua nel mondo di Rapunzel Che ho sbagliato a pronunciare 10 volte nello scorso episodio Dovevamo portarla a vedere le lanterne Oggi ragazzi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo L'unica cosa è che ho visto che altri youtubers che stanno portando Kingdom Hearts Invece sono finiti nella scatola dei giochi E mi stavo chiedendo come mai Non vorrei magari che le scelte che abbiamo fatto all'inizio Ci abbiano portato a affrontare questo mondo Prima di quello di Toy Story per esempio Allora facciamo fuori questi nemici Che stavo già affrontando la volta scorsa Usiamo il controscudo Dove caspita sono tutti quanti? Qua Questo sembrerebbe un avversario tosto Che però è andato giù Ce ne sono altri qua Trottola aggrovigliata Il carro degli dei Vai Sora Falli fuori tutti Ehi là Ok eliminato Ehi là Ucciso? Sì Perfetto Ce n'è un altro là Vai Rapunzel Facci una mano Gran colpo No mi ha colpito Vigore blaster Dai 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 Spariamo 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 Vi facciamo fuori tutti così Vai che salta Ok Eliminato Possiamo proseguire Qui cosa c'è scritto? Questo cartello indica la direzione per il castello Perfetto Ok ragazzi abbiamo raggiunto una nuova zona C'è una specie di fiore gigante? O almeno sembrerebbe un fiore Stai attento Sora We're all clear Attento Oh 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 Allora dovrebbe essere Attento Un nobody Ma bello bello forte E ce n'è più di uno Ci pensiamo noi Che fifone Ci pensiamo noi Ok ragazzi Famo Gli ermazzo Cazzo Ma eh Uh attenzione Aia Che male Infatti sono già In fin di vita Spero di riuscire a D'attivare presto Un attacco speciale Tipo questo Va benissimo Però se loro stanno là in cima Vai col contro scudo Vai col contro scudo Ok Uno è andato Il problema è che Ne saltano fuori In continuazione Fusione Fusione Furore E usiamo il carro Vediamo se riesco a combinar qualcosa Volevo sfruttare la Parete Ah l'ho mancato Usiamo pippo bombardiere Lui lo prendo Infatti lui è andato Ce ne sono Uh è sceso È sceso È sceso Fusione Furore Attenzione che comunque Mi hanno Tirato via una vita Grande Sora Ne è rimasto solo uno Ce l'abbiamo fatta È andata bene che Avevo acquistato quella moneta Che mi ha permesso di Ritornare subito in vita Contrattacchi Se premi X Dopo aver parato un colpo nemico Eseguirai una varietà di Contrattacchi Ce l'abbiamo fatta Ecco l'abbiamo fatta Eccoli Eccolo bossing around nobodies that's the old organization why are you in the real one too good for you my name is Marluxia and yes that is correct how interesting it is to see you again Sora again you know him a shame you've no memory of me because I remember you exceedingly well although it's those memories I'd soon erase I don't know what you're saying nor should you nor will you ever for that matter now if you'll permit me I've come to ask a favor favor you have got to be kidding me please hear what I have to say I'm sure you've noticed Wow perhaps not cause up but you should know that maiden with you Rapunzel is the very light of this world I would see you guard her from its dark horrors starting with you right all the organization seeks this balance you must understand our ultimate objective is not to clash with the light we seek to complement it use that keyblade to keep Rapunzel safe un favore un po strano eh Rapunzel's light oh hey where did they go I guess they must run on ahead then we better go find them va bene andiamo a cercarli va io sono ancora in modalità furore allora stiamo procedendo secondo me si sono andati di qua aspettate un secondo però mi sono dimenticato di cambiare l'equipaggiamento sia di paperino coccarda maschera sia di pippo possiamo dargli lo scudo meccanico che dovrebbe essere più potente sì e paperino gli possiamo dare la mazza da guerra perfetto dai che forse li becchiamo vorrei saperlo anch'io mi avete detto che questa qui è la cattiva di Rapunzel ok ok Scusatevi, bui viaggiatori. Siete Rapunzel? State attenti, ragazzi. Sì, senti. Perché? Mi scusate, sono la madre Rapunzel. Il po' figlio è tornato a casa senza una parola e ho proprio stato scoperto. Perfetto, mi diciamo, dove è la mia amica carina? Siamo dicendo, ma l'abbiamo perduto. Grazie, eh, arrivederci. Allora, andiamola a cercare. Attenzione agli altri Heartless. No. Abbiamo beccato dei Nobadi, fantastico. Vai, vai, vai. Il problema è che sti qua stanno per aria. Vai con la forza abbagliante, Paperino. Sconfitti? No, ce n'è ancora uno. Ah, ma lo finiamo in 4-4-8. Volevo provare a usare un attacco volante, ma niente da fare. Vai con l'idronza. E il controscudo. No, non riesco a evitare i loro attacchi. Ok, però almeno l'ho eliminato. Riusciamo a eliminarlo senza lasciarci le penne. Vai, confusione e furore. Eccolo. Ah! Eccolo! Si teletrasporta in continuazione. Manca pochissimo! L'abbiamo eliminato, però. No, di qui secondo me Rapunzel non è passata assolutamente. Guardate cosa ho trovato, un baule. Cavigliera. C'è qualcosa di qua, forse. Allora, aspettate però che faccio che bere una pozione perché non ho più salute. La diamo anche a Pippo. Adesso va meglio. Qua in fondo? Io faccio che andare da questa parte. Aspettate, allora. Dritti di qua. Ma non ci credo! Dai! Degli Heartless attaccati al muro. Usiamo la forza abbagliante. Infatti ce n'era ancora uno. Dai, che forse siamo sulla strada giusta. Li abbiamo beccati? Sì, li abbiamo beccati. Cosa stanno affrontando? Ah, un cavallo. Il camaleonte. Calma! Ma non è un cane, dai! Ma non è un cane, dai! Oh, non è un cane, dai! Ma non è un cane, non è un cane, non è vero? Maximus? Gli ha dato la mano Dai, Maximus! Gli ha dato lo zoccolo Povero Flynn Allora, procediamo Insieme a Maximus Rapultzen E Flynn Si, confermo Veramente spettacolare Di là non si può procedere Quindi andiamo da questa parte Allora, dobbiamo rompere queste rocce Allora, cosa dobbiamo fare? Sono qua, sono qua Ci sono, ci sono Vediamo Wow Che spettacolo Volevo darmi soltanto Un'occhiata in giro Dobbiamo usarla tipo come corda Nooo, attenzione Nemici Ok, sono quelli facili da abbattere Questi qua Poi andiamo a prendere l'arciere Anzi, gli arcieri Eccolo 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 Bastato ancora un colpo per mandarlo K Eh, ma quanti arcieri Mamma mia Quanti arcieri Vai con contro scudo Mi piace molto Questo scudo Più che altro perché eliminiamo i nemici in quattro secondi Ok, ce l'abbiamo quasi fatta Manca soltanto questo E' l'altro A posto Procediamo ancora Dacci di nuovo una mano Perfetto Eeeh Che atterraggio E quello che caspita è Oh oh Boss fight Guardalo Aspettate un attimo perché voglio Coppire questo Fusione furore Allora, intanto Ok, non posso fare nulla Pensavo di poter Utilizzare almeno una pozione Sai che stiamo facendo Il mazzo a tutti quanti Ok, qualcuno mi ha curato Non so chi Però qualcuno mi ha curato Gli heartless con me Non hanno speranze Forse è meglio dedicarsi alla torre Con i cannoni Adesso Allora, ho buttato giù la scimmia Che la gestiva Ne sono apparse altre Pippo Ah no Pippo e Paperino Sono già giù No, anche Rapunzen Però Pippo è tornato su Meno male Anche Paperino Ok, forse ce l'abbiamo fatta Sì Mi sa che ce l'abbiamo fatta No Attenzione Aia Ecco, sono di nuovo in fin di vita Dobbiamo cercare di Distruggere Questo carro Tutto particolare Vai con la corsa Spruzzi Ci conviene Attaccare Lateralmente Questa Attrazione Questo trenino Facciamo così Chiamiamolo così Ce l'abbiamo fatta No Non ce l'abbiamo ancora fatta Però abbiamo distrutto un Un vagone Ok ragazzi Sto procedendo alla velocità della luce Anche perché Sono riuscito a riattivare La modalità fusione Furore Quindi faccio un sacco di male Senza subire tanti danni Guardate che roba Sono devastante Non riesce neanche a muoversi Lo stiamo pestando Attenzione Sora Che manca pochissimo Ok Gli manca solo una barra di vita Spostiamoci Eh lo sapevo Contro scudo E ce l'abbiamo fatta Mamma mia Tostino come avversario È tostino Super salto Se premi cerchio Mentre sei in flui moto Eseguirai un super salto Che ti porterà Da tezze Altrimenti irraggiungibili Buono Allora mi sa che possiamo Procedere da questa parte Eeeh Guardate che spettacolo Si scende a tutta velocità Uno scivolo d'acqua Praticamente In questo caso però Manca l'acqua Fichissimo Fichissimo Eeeh Abbiamo raggiunto Il castello Guardate che spettacolo Guardate che spettacolo E tu Tu mi aiuti a trovare Grazie 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 Ciao 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 Ok ragazzi abbiamo raggiunto il regno Facciamo che Recuperare un po' di vita Magari facciamo che salvare un attimo Tanto per portarci avanti A posto Allora facciamo che esplorare Il castello Guardate che spettacolo Veramente molto molto bello Ma quella non è la stessa persona che abbiamo incontrato Nella foresta Vedete la donna E quella lì è lei da bambina mi sa Eccoci qua Allora Danzare con gli abitanti del villaggio Partecipa ai festeggiamenti E sfoggia le tue mosse Avvicinati agli abitanti della città E segui i loro passi di danza Per riempire in fretta la barra Copia i loro movimenti Con cerchio per piroettare O X per eseguire Dei passi danzanti Quando trovi un partner di danza Premi quadrato Nei cerchi di luce Per battere le mani a tempo Prova a premere triangolo Vicino ai vari elementi dell'ambiente Per eseguire delle mosse speciali Mamma mia Ok Sto cercando di Fare del mio meglio Ok forse ho capito Allora qua dobbiamo battere le mani Qua dobbiamo battere le mani Dobbiamo creare una specie di catena Con lei passo Battire le mani E acrobazia Cerchio 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 Dai facciamo ballare tutti quanti Forse ce l'abbiamo fatta Forse ce l'abbiamo fatta Quella Abbiamo ottenuto Un bel Magia più uno Ah stanno per lanciare le lanterne E lei questa volta si trova proprio al centro Del lago vicino al castello Per poterle osservare I've been Looking out a window For 18 years Dreaming About what it might feel like When those lights rise in the sky What if it's not Everything I dreamed it would be It will be And what if it is What do we do then Well that's the good part I guess You get to go find the new dream Eccole Le stanno iniziando a lanciare Calma 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 che se no ci ribaltiamo Che spettacolo Poi sentite la musica No vabbè Guardate che roba Che roba Che spettacolo Che spettacolo E camaleonte Duele ha pure lui Eccole che partono Bello Veramente Molto Molto Bello Molto emozionante Ragazzi Veramente molto emozionante Cioè Voglio dire I'm sorry Everything is fine There's just something I have to take care of Okay I'll be right back Dove deve andare It's all right pascal Finalmente ho scoperto come si chiama il camaleonte Pascal Ci può stare come nome Attenzione Ragazzi In piedi Vai ragazzi Sconfiggiamoli Dove vai Vieni qua Comunque ha evitato Il nostro attacco Allora aspettate Caspita Quante trottole Quante trottole Vai con contro scudo Eh ma Se no Si fermano un secondo Diventa difficile per me Farle fuori Andiamo col carro degli dei Sì effettivamente Sì effettivamente Però siete dei guastafeste Eh cioè Ci stavamo godendo le lanterne E avete dovuto rovinare Il momento Dovrebbe mancare solo quello Sì Dovrebbe mancare solo quello Dove è andato Eccolo Ce n'è un altro Usiamo la giostra Usiamo l'attacco speciale Della giostra Adesso ho capito come funziona Quest'attacco Quindi no problem Vai col contro scudo Sono diventati più aggressivi Comunque Questi no body Allora Ne mancano solo due Ne manca solo uno E qua sopra E ce l'abbiamo fatta Grande Sora Lanciare i nemici Se hai attivato l'abilità Spirale crescente Puoi lanciare i nemici In aria Premi ripetutamente X per iniziare una combo E poi premi Cerchio Per lanciare in aria Il bersaglio Grazie a tutti Ciao 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 a tutti